Guido Guidesi, il decreto sui famosi 80 euro promessi da Renzi ai cittadini è stato blindato dal governo, che cosa prevede? Il testo è arrivato in commissione dopo che al Senato è stato votato, è un testo dove i mitici 80 euro non sono assolutamente coperti, vuol dire che non ci sono i soldi e questo è stato attestato sia dai tecnici del Senato che dai tecnici della Camera. Per nascondere questa cosa il governo e la maggioranza hanno deciso di non far discutere il testo, di non accettare nessuna modifica emendativa proposta da noi per migliorare proprio il testo, per poi porre la questione di fiducia, blindarlo completamente nascondendo alla gente quello che realmente c'è scritto, perché in questo testo ci sono tanti aumenti di imposte ancora una volta e tantissimi tagli agli enti locali. Il governo Renzi è un blef, ma è soprattutto un blef forzoso.